Completamente ubriaco, aggredito e picchiato i carabinieri, alla fine è stato condannato ad 11 mesi. E' quanto accaduto sabato sera in un bar nella prima periferia di Umbertide, dove un 38enne di origine albanese ma residente nel comune Umbro aveva iniziato a infastidire alcuni clienti. Così sono stati chiamati i carabinieri. Appena arrivati, il 38enne, già noto alle forze dell'ordine, si è scagliato immediatamente e senza ragione contro di loro, colpendoli con cacci e pugni, proferendo frasi minacciose e offensive nei loro confronti. Dopo essere riusciti a condurre con molta fatica l'uomo al di fuori del bar per evitare i danni alle persone presenti, i militari, visto l'atteggiamento aggressivo e pericoloso del 38enne, sono stati costretti a far uso della pistola Taser in loro dotazione, con la quale sono finalmente riusciti a renderlo inoffensivo, ammanettandolo e conducendolo poi in caserma per l'arresto con i reati di resistenza, oltraggio e violenza pubblico ufficiale. L'udienza di convalida si è svolta nella mattinata di lunedì. L'arresto è stato convalidato dal giudice. Il 38enne ha patteggiato 11 mesi di reclusione, pena sospesa.